Un saluto a tutti gli appassionati di ciclismo e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo per un nuovo episodio della serie sul Pro Leader con il nostro Aieie Brazorff. Nell'episodio precedente ci eravamo lasciati con la Milano Sanremo dove avevamo ottenuto un terzo posto con il nostro corridore. In vostra senso ho giocato il Giro delle Fiandre e la Parigi Roubaix, non ho fatto granché perché di Pavè eravamo scarsissimi, quindi sono andati in fuga, ho cercato di mettermi in evidenza ma nulla di più. Però completando quelle corse sono riuscito anche a completare degli obiettivi ed ottenere dei miglioramenti soprattutto nel Pavè. Avevamo 59 prima di giocare il Fiandre e adesso abbiamo un 67, non siamo dei fenomeni sulle pietre ma adesso non siamo neanche scarsissimi. Come prima, inoltre come recupero abbiamo A e ho ottenuto anche qualche altro miglioramento per quanto concerne vigore e resistenza. Adesso andiamo a giocarci la Liegi Baston Liegi che invece è una corsa che devo dire si presta molto alle nostre caratteristiche perché abbiamo 76 di media montagna, 77 di colinare, 77 di accelerazione, 72 di volata. Siamo anche velocini, non siamo fermi in volata quindi se riuscissimo in qualche modo a tenere le ruote dei migliori di Pogacere Venepul beh a quel punto potremmo anche giocarci le nostre carte in volata. Non sarà facile però andiamo a giocarci la Liegi Baston Liegi con Brazzorf ovviamente, poi abbiamo anche Aramburu, Corchisegirre, Mate, Ionisegirre, Aberasturi e Pippen che è un corridore molto scarso. Prima di partire impostazioni difficoltà leggende, accadute con ritiri, malattie, infortuni in gara rari, preparazioni attivate. Ok, andiamo, andiamo a giocarci la Liegi, la Doyen, viene soprannominata così, la Decana perché è la classica monumento più antica di tutte. 257 chilometri, percorso duro ma nel gioco non durissimo. Nel gioco è abbastanza difficile fare la differenza anche utilizzando corridori come Pogacere o Evenepul favoriti. Pogacere, Evenepul, c'è anche Vingegaard, attenzione, questa non è una buona notizia per noi perché vuol dire che verrà fatta una corsa dura. Per fortuna il nostro Brazzorf ha una grande condizione. Parte la Liegi, ci vediamo o nel finale o nel momento in cui qualcuno farà l'azione e spezzerà il gruppo. Vedete, Brazzorf con quella maglia lì, ve l'ho già spiegato negli altri episodi, nella carriera pro leader, chi è in testa alla classifica pro cycling individuale della stagione, cioè chi ha più punti UCI in quella stagione, indossa poi nelle gare questa maglia qui che ricorda la vecchia maglia della Coppa del Mondo, ma ci vediamo più avanti. 63 chilometri alla conclusione, davanti c'è una fuga che ha 2 minuti e 24 di vantaggio. Io ho detto a Gorka Isagir di accelerare qua sul call di Lusier, però ci hanno fatto il buco dietro, non sembrano neanche reagire granché gli altri, perciò io direi di insistere con Gorka Isagir. Restiamo sulla sua ruota, dietro adesso c'è un attimo di reazione della UE, ma proviamo ad anticipare perché, vedete, dopo c'è lo scolinamento e c'è il rifornimento, quindi possiamo prendere il rifornimento sia con Brazzorf che con Gorka Isagir magari riusciamo ad accodarci sugli 11 fuggitivi lì davanti. Direi di provare quest'azione, proviamo ad anticipare, anche se dietro vedo un attimo una reazione del gruppo con Pity della gruppa Ma, però dai andiamo, non stiamo sprecando energie con Aieie, siamo a ruota di Gorka, quindi direi che va benissimo così. Abbiamo il gel blu a disposizione che adesso prendiamo, abbiamo anche guadagnato parecchio, mancano ancora 2 km allo scolinamento, quindi devo gestire un po' le energie con Gorka Isagir, forse avrei dovuto attaccare con Aramburu che ne ha, però sinceramente io quando ho fatto accelerare Gorka era giusto per fare un po' di ritmo, di scrematura, visto che sembra star bene Brazzorf, non per andar via, però abbiamo guadagnato un minuto sul gruppo, meno di un minuto, 40 secondi, e vediamo lì davanti i fuggitivi, quindi alla fine ci sta come azione, purtroppo Gorka Isagir lo vedo un po' al limite, gli dico di calare un attimo, dietro si fa fatica, do il gel blu a Ioannis Agir, ad Aramburu che sta benissimo, tra l'altro con Aramburu ho fatto secondo al Fiandre, non so come, Eva la condizione top, restando sempre sulle ruote, Fiandre che ha vinto, lo ha vinto Vult Van Aert nella nostra stagione, perfetto, Gorka Isagir ci ha riportato qui sui fuggitivi, io prendo tutto il gel blu con Brazzorf e andiamo, inizia la discesa, recuperiamo un po' di energie, è una bella azione, alla fine non abbiamo sprecato nulla, possiamo collaborare qui con i fuggitivi, dico un attimo a Gorka di stare a ruota, di non tirare perché altrimenti spreca troppe energie, quindi dico di non collaborare in questo momento a Gorka Isagir, dietro però ci vengono a chiudere secondo me, si stanno per venirci dietro e chiudere, peccato l'azione non era male ma non abbiamo semplicemente forze, dico a Gorka di tirare ma è al limite, abbiamo tutto il gruppo dietro, noi non abbiamo speso per carità però qua i fuggitivi non ci hanno dato una mano, fa niente, fa niente, fa niente, ci abbiamo provato, io riproverei l'azione con Aramburu, quasi quasi, sono un po' tentato, do il gel blu a Gorka Isagir che ha provato quest'azione che è stata neutralizzata, oddio, e dico a Yon di venire in nostra protezione, proteggi Brazolf, e andiamo avanti, siamo un po' troppo dietro ma fa niente perché non è questo il punto in cui si decide la corsa, sta venendo fuori la scrematura, grande lavoro della Quickstep di Evenepul, anche della Visma, quindi vogliono fare corsa molto dura, ok ci avviciniamo a una salita, qui bisogna prenderla davanti assolutamente, posizione aerodinamica per recuperare un po' di energie, sono rimasti soltanto 53 corridori eh, e mancano soltanto 39 km, cioè soltanto, ancora 39 km, quindi selezione davvero tosta in questa Liegi, curva a destra, metto sulla ruota del, anzi gli faccio il buco a Schmidt, curva a sinistra, e prendiamo davanti, forse la Redout questa, già la Redout, vediamo, sì, la Cote della Redout, 2 km con una pendenza media dell'8.9%, dico a Isair, faccio prendere intanto il gel blu, perché qua c'è Kiatkoski che fa la sparata, l'accelerata, si muove amico Kiatkoski ma si pianta, non so se sta attaccando per lui, è un'azione per qualche altro uomo della Ineos, però non lo vedo, forse è per Pidcock che è un po' dietro, arriva Van Wilder, che invece lavora per Renko e Venepul, si stacca Jita, si stacca Jita, si stacca Skilmos, si stacca Puells, sono rimasti 49 qui davanti, bravo Ionis Aguirre, che ci protegge, ci tiene qui nelle prime posizioni, vedo due Visma lì, che accelerano anche Thorn Pidcock, quindi è Pidcock il capitano della Ineos, stiamo scolinando la Redoute, ecco Pogaciar con la maglia di campione del mondo, perché nella nostra carriera, Pogaciar ha vinto il mondiale nella scorsa stagione, bene, scoliniamo, superiamo senza problemi la Redoute, con anche Ionis Aguirre, Aramburu un po' al limite, ci sta che faccia fatica, su una salita del genere, oddio c'è l'attacco di squadra degli Ineos, con Kiatkowski e Pidcock, bella azione, io però ragazzi Marco Tadei, Marco Tadei, il campione del mondo, marcato dall'uomo che è la maglia di leader della Coppa del Mondo, che non esiste più, Bradzorff già alla sua seconda stagione da professionista, se la gioca con i migliori, e sta marcando Pogaciar, guardate, Bagiei è a ruota di Tadei, lo stiamo marcando praticamente a uomo, chiuso il tentativo di attacco della Ineos, hanno provato una bella azione, Kiatko e Pidcock, ma non li lasciano andare, Isaguirre è un po' al limite, per Severa senza limiti, Aramburu sta bene, ma forse non è un percorso adattissimo, le sue caratteristiche, troppo duro per lui, però siamo rimasti in 33 davanti, Aramburu c'è, qua mi sono perso un attimo Tadei, gli Ineos vengono ripresi adesso, vediamo se risaliamo, e occhio perché si è mosso Pidcock con Samuel Yates, Pogaciar, McNulty e Venepul e Roglic, quella può essere l'azione buona, qua però c'è Vingegaard, e dobbiamo far chiudere gli altri, dobbiamo far chiudere gli altri, facciamo lavorare la visma, che ha Walter, Van Barley, ha anche un altro corridore qui, non so se è Butvan Aert, mi sembra Jorgensen forse, quindi stiamo sulle ruote, facciamo lavorare la visma, che è in netta superiorità numerica, bravo Aramburu, che è ancora qui davanti, Isaguirre si sta per staccare, ma ha fatto un grandissimo lavoro, anche Gork, entrambi i fratelli Isaguirre, hanno svolto un ottimo lavoro, della visma sta tirando Van Barley, poi c'è Tish Beno, e l'altro visma è Attila Walter, prende squadra la visma, però quei 6 davanti sono buoni, Evenepul, McNulty, Seymour Yates, Pidcock, Pogacar e Roglic, Pogacar ha anche un compagno di squadra, ovvero Brandon McNulty, e non è facile chiuderli, sono lì, sono lì, sono lì, ma hanno quei 14 secondi, e non sarà facile andarli a prendere, per fortuna c'è la visma di, Vigegaard che lavora e va per chiudere, il nostro EA sta bene, sta bene Brazzorf, sta molto bene, è venuta fuori una corsa dura, non vedo Vanderpool, Nevan Aert, quindi uomini veloci non ne vedo, c'è ancora Lascano per dire la verità, ma altri veloci non ne vedo, qua dobbiamo andare, perché se partono, dobbiamo andare, e Beno fa fatica a chiudere, fa fatica a chiudere Beno, questo è il momento giusto per accodarci, lì sulla testa della corsa, e mi metto sulla ruota di Taddei, è inutile attendere ulteriormente, McNulty lavora, attacca Seimo Yates, noi qui siamo un po' al limite con il gel rosso, ma Marco Pogaciar, non posso marcarli tutti, accelere Venepul, Pogaciar che dà di spalle, sembra un po' al limite, così come Roglic, chiusi adesso, gli attaccanti, do il gel rosso a Aramburu che è al limite, intanto prendo un po' di gel blu, con Brazzorf, tratto in discesa, posizione aerodinamica, c'è l'allungo di Renque Venepul, occhio che se Venepul va, poi non lo vediamo più, non lo rivediamo al traguardo, Aramburu grande, che è qui davanti, e qui davanti Aramburu, dopo giocarsi le sue carte, per un piazzamento, Samuel Yates è ripreso adesso, dal lavoro di Tish, beh no, grande lavoro della, Luis Malisebike, però poi Wingard deve attaccare, perché in volata non la vince di certo, anche Valentin Madua, Matej Moric, c'è un altro corridore forse della Bahrain, no, sembra di no, anche Guillaume Marten addirittura, prendo un po' il gel blu, con Aghiedi e Brazorff, mancano soltanto 20 km, e dovrebbero mancare anche soltanto due, Cot, anzi soltanto una Cot manca, siamo in 15 qui davanti, Aramburu c'è anche se ha pochissime energie, ed è al limite, posizione aerodinamica, per recuperare, più energie possibili, secondo me ci sarà la sparata di Pogaciar, o di Evenepul, ma anche quella di Wingard, perché Wingard non può certo aspettare la volata, non può certo aspettare la volata, in caso di volata occhio a Tom Pidcock, che è molto veloce, e ci siamo, Tish Beno sta pilotando questo gruppetto di 15 corridori sull'ultima Cot, bene, Ie Ie Brazorff qui davanti, terzo posto alla Milano Sanremo, e adesso cerca un altro piazzamento, chissà, magari la vittoria a sorpresa, la prendo davanti qui, visto che nelle curve siamo forti, vediamo, se facciamo un po' di differenza, no, abbiamo Beno a ruota, lasciamo stare, arriva Brandon McNulty, e c'è l'attacco di Hoyer Lezcano, anche Remco gli va dietro, reagisce Pidcock, va anche Valentin Maduah, va anche Morich, faccio bene la curva, siamo sulla Rochefoucault, sulla ruota di Evenepul, che però rallenta adesso, c'è l'allunga addirittura di Morich, strano, a lungo di Morich, dobbiamo andare dietro qui, strappo durissimo ma breve, durissimo ma breve, e sta risalendo anche Jonas Wingergaard, che su queste pendenze può fare la differenza, mamma mia, e Aramburu qua si stacca, si stacca Gal, si stacca Ghiglion Martin, restiamo in 13 davanti, Aramburu stringe i denti, lo vediamo lì, che si alza sui pedali, Pogacar insolitamente dietro, insieme a McNulty, Pogacar molto dietro, risale adesso, e Aramburu non ce la fa più, si stacca, bravo comunque, Aramburu, si stacca anche Latskano, mentre Morich è ancora qui davanti, posizione aerodinamica, per recuperare più energie possibili, Tishbe no, grandissimo lavoro, restiamo in 12 qui davanti, prendo intanto tutto il gel blu, ora questa non è una cotto, ma è comunque un tratto in falso piano, dove si può fare la differenza, e mi aspetto l'attacco di qualcuno, è Aramburu, peccato, è rimasto lì nella terra di nessuno, strano che non parta, non c'è nessun attacco, io sono tentato di buttarla lì, uno a lungo, vediamo, si sta muovendo Morich, e anche Vingegaard, lo sapevo che Vingegaard attaccava, dai, metto subito sulla ruota, però qua non è facile fare la differenza, Valentemma 2 si pianta, qua ci stava un bel contropiede, qua ci stava un bel contropiede, glielo diamo con Brazorf, perché ho visto che si è staccato McNulty, si è staccato Brandon McNulty, andiamo con IA, però non ci lasciano andare ragazzi, non ci lasciano andare, c'è un Rampo e Venepul che ci insegue, forse siamo stati troppo avventati, quindi io mi rialzo ragazzi, mi rialzo, è inutile sprecare troppe energie, ci vengono a prendere, ci vengono a prendere, e c'è marcamento, siamo rimasti in 9, ma quei due lì dietro adesso rientrano, Pogaciar lì in ultima posizione, mi fa tanta paura, mi fa tanta paura Tadei, in 9 davanti, Winger, Devene, Bull, Brazorf, Moritz, Maduha, comunque il nostro IEI è lì, con i migliori al mondo, Aramburu deve stare sulla ruota di Gal, per fare un piazzamento in top 15, e qui mi aspetto assolutamente l'attacco di qualcuno, noi abbiamo anche un gel rosso a disposizione, per provare un allungo, e poi ricaricare la barra dello scatto, eccolo Maduha, gli vado a ruota, gli vado a ruota, vado sulla ruota del francese, è stata una finta, è stata una finta di Valentin Maduha, ok, Wingergaard davanti, Evenepool sta partendo, sta partendo Evenepool, sta partendo Remco, sta partendo Remco, gli vado a ruota, vado sulla ruota del Belga, qua la maglia di campione Belga, perché noi abbiamo iniziato la carriera, prima dell'aggiornamento, occhi a Moritz, che si allunga in discesa, poi non lo riprendiamo più, per fortuna vanno a chiudere anche gli altri, per fortuna va a chiudere Pidgock, anche lui grande discesista, andiamo a ruota, andiamo a ruota di Tom Pidgock, 4 e 7, io direi di partire, poi prendiamo il gel rosso, tanto siamo in discesa, a parte Aieie Brazolf, attacco in discesa di Aieie, rischiamo anche, rischiamo anche qui, all'interno di Moritz, c'è la curva, la voglio prendere davanti, per fare la differenza un po' in discesa, ok, ma abbiamo tutti a ruota, abbiamo tutti a ruota, niente da fare, ricarico la barra rossa dello scatto, per un eventuale arrivo in volata, ce la dobbiamo giocare in volata ragazzi, e non siamo i più veloci, perché Pidgock forse è qui il più veloce, allunga Valentin Maduah, allunga Maduah, e sono davanti, la sto prendendo di testa, non è assolutamente buono, ma per fortuna la lancia Valentin Maduah, quindi c'ho Maduah come punto di riferimento, provo ad entrare nella sua scia, esco adesso con Aieie Brazolf, però rischiamo di piantarci, ci siamo piantati con Aieie, dietro sta arrivando Tom Pidgock più veloce, colpo di reni di Brazolf, e non lo so, devo vedere Pidgock, mamma mia, mamma mia, Pidgock era troppo di lato, quindi non ho visto, non ho visto davvero il britannico, del team Ineos, mamma mia, Tizza con 24 chilometri di ritardo, arriverà domani mattina, mamma mia che corsa, difficile fare la selezione alla Liege, è arrivato comunque un gruppetto di, soltanto 10 corridori, tra cui i più forti, Vingegaard, Pogaccia, Ravenepoel, non ho visto Roglic, c'era fino a un certo punto, non so se poi si è staccato Roglic, sapevo che Pidgock era il più veloce, lei in mezzo, anche Madua è veloce, vediamo la volata, dall'alto, ok, qua andiamo, ci siamo piantati, dov'è Pidgock, dov'è Pidgock, oddio, no no, siamo nettamente davanti, mamma mia, nettamente davanti, quindi Aiei Ebrazorff vince, la sua prima classica monumento, vinciamo la Liege, baston Liege, al secondo anno, da professionisti, ed eccolo Aiei Ebrazorff, eccolo, mamma mia, una cycling legend, quindi è già una leggenda del ciclismo Aiei, che grande, grandissimo, 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 ho sbloccato anche l'obiettivo, re dell'herdenne, ovvero vinci la Liege, a difficoltà, leggenda, quindi Brazorff, davanti a Pidgock, terzo, Tish, Benot, quarto Bardet, quinto Evenepul, e credo sia la prima classica monumento, vinta da un corridore africano, nella storia del ciclismo, perché Ghirmaie ha vinto la Gant, Wevelgem, ma la Gant non è una delle cinque classiche monumento, è una semi classica importante, quattordicesimo posto, di Aramburu, sì no, Roglic poi si è staccato, è arrivato a diciannovesimo, evidentemente non era in condizione, infatti aveva una pessima condizione, classifica prosegling, individuale con il nostro IE che è ancora davanti, nettamente a Van der Poel e Van Aert, Aramburu, quarto, bravissimo, classifica prosegling squadre, Leo Scaltella è seconda dietro la Wisma, davanti comunque alla UE, miglioramenti ottenuti, oddio, abbiamo un 78.8 di overall, recupero A, non capisco perché ci ha dato come obiettivo sbloccato, vince una classifica generale, individuale e complessiva, non abbiamo vinto una classifica generale, abbiamo vinto una classica, però ci ha sbloccato questo obiettivo con la Liegi, 80 di resistenza e 80 di vigore, questi sono dei parametri importanti in ottica Tour de France, per provare a vincere un Tour de France, 79 di collinare, questo è importante per un Giro delle Fiandre, una Milano-Sanremo, questo episodio termina qui, io direi che nel prossimo episodio ci vediamo direttamente al Tour de France, Braidscap e del Finato li giocherò per sbloccare altri obiettivi e quindi migliorare ulteriormente, in vista del Tour de France, ma già ve lo anticipo, al Tour de France con questo corridore, con questo livello qui e con qualche altro miglioramento che riusciremo ad ottenere in montagna, si potrebbe anche fare la classifica, fare una top 10, però non mi serve a niente fare la top 10, non possiamo competere con Pogacar, Winger, Garde e Venepul con quest'overall, con questi attributi, perciò l'obiettivo del Tour de France, ragazzi, sarà vincere tappe e vincere la maglia qua, la classifica scalatori, già ve lo anticipo. Questo episodio, ragazzi, termina qui, io vi invito come sempre a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento sempre qui sul canale del ciclista anonimo per continuare questa serie e per altri contenuti, come sempre dedicati, al mondo del ciclismo. Ciao! Ciao! Ciao!